Nel vecchio, i numeri dicono che con le targhe alterne la qualità dell'aria a Pescara migliora. Tra l'altro, con l'arrivo del maltempo, con la pioggia soprattutto, la situazione potrebbe ancora migliorare. È così? Ma è l'auspicio. Certo, il Sindaco, quando ha adottato la misura delle targhe alterne per la tutela della salute pubblica, l'ha fatta ragionveduta e anche avendo preso contezza di chi qualche parere tecnico-scientifico era in grado di poterglielo sottoporre. E i dati danno ragione. Voglio un po' ricordare a tutti coloro che hanno parlato che il provvedimento non avrebbe dato efficacia facendo riferimento alle precedenti esperienze. Che nelle precedenti esperienze, sempre delle targhe alterne, ci si era limitati a una piccola area della città di Pescara. Di conseguenza, i risultati erano certo allora noti. Oggi che invece il Sindaco ha assunto una iniziativa forte, sia sotto l'aspetto soprattutto per quanto riguarda la qualità dell'aria e quindi la tutela della salute pubblica, dall'altra quella di limitare su tutto il territorio il traffico veicolare. Il risultato dà ragione al Sindaco senza ombra di dubbio. Noi ci auguriamo che l'inverno, quello che spazza via le ulteriori polveri, però teniamo conto che in inverno la neve non sempre spazza via o quel tipo di maltempo non spazza via le polveri. Sono convinto che il Sindaco, all'esito di queste e di altre, vediamo quale è il tempo che vorrà mantenere il provvedimento, potrà consegnare alla città un periodo veramente di salubrità dell'aria e anche, perché no, insomma, anche una visione nuova della città che in molti, voglio dirlo, in molti hanno comunque apprezzato.